Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. È avvenuto un incidente tra il raccordo A12 FIPP-Li e Livorno-Stagno, in direzione Livorno. In A11 l'area di servizio di Peretola Nord, in direzione Pisa, è sprovvista di GPL per lavori. Sulla FIPP-Li, personale su strada per lavori tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, personale su strada anche allo svincolo di Empoli Ovest. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonteblanda e Montiano, in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 69 di Valdarno, restringimento di carreggiata e all'occorrenza senso unico alternato per lavori tra i chilometri 15, 800 e 16 e 200 nel comune di Reggello. Nuoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!